Credo che c'è molti argomenti forti. In questa stagione abbiamo creato proprio un argomento forte nel tessere, tutti creati di noi a livello di sportification del tailoring. Tutto siamo nastrati, siamo saldati per dare questa permanenza ai capi. E' quello che vorrei comunicare, che è una collezione fondamentale per un giovane usando le tecnologie per portare avanti una collezione più contemporanea. Il heritage è il numero uno, perché per me è sempre importante portare avanti, portare da ieri avanti, la lingua, il linguaggio di insegna. Abbiamo usato i tessuti agnona, che è un bucle che sembra ceiling, un montone. E' questa idea di nomadismo, un uomo che viaggia e non c'è più questa linea tra lavoro e leisure time, però questa idea che l'uomo è sempre in movimento, giorni. Caravaggio per me è una grande ispirazione, sia nel colore, sia nel mood e anche nel setting, per creare più drama, più emozione, meno sintetico del forse dell'ultimo due. Avere questa idea di più emozione nell'uomo, che per me è molto importante. L'ultima cosa della sfilata è che chiudiamo con la ceremonia, è fatto come trapunta, però è più ornamentale, più pegrativo, è sempre geometrico, perché per me sono molto geometrico come ispirazione. E fa questa lana di popling che è tutto intrappellente, però sono abiti che sembrano trapuntati, la tecnica di richiamo, però fatto con un gusto Outdoors. E' avere questa idea che l'Outdoors è portato alla città. Questa contaminazione delle proprie permanenze di Rainway, Outdoors, Coastway, tradotto in Taylorin.